Allora caro Davide sono le 22 e 25 noi siamo qui nel nostro studio perché ormai è diventato il nostro studio di prova. Abbiamo fatto la riunione della radio che è lunedì sera giustamente quindi ci prepariamo per domani che c'è la banda. Come tu ben sai corri 21 e 30 Sigla, anzi dopo le precedenti puntate a questo punto. Noi abbiamo finito la nostra scaletta. Le canzoni abbiamo scelte noi. No anzi dovrebbero anche calvare. Ma che sei andato a vedere scusa? Caro Davide. Quello di che poi? Scusami. Quello del caffè che questa potrebbe essere una battuta che... Ma poi le immagini dell'altra volta non sono servite a niente. Dettaglio che non era trascurale. Quindi noi stiamo registrando questa cosa per te caro Davide. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo fare? Ah non ho detto che 22 e 25 al freddo. Boia. E se l'avevo detto lo ribadisco. Vabbè è più regno ma eh perché non c'è più altro da aggiungere. Caro Davide. Sigla.